ragazzi mi raccomando iscrizione al canale gratis e campanellina e prima di mettervi in auto non bevete non mettetevi in auto se avete bevuto mi raccomando ci tengo a questa cosa qua il cinese ha fatto un altro video registrato da quello che diano perché tifosi dell'intero ormai per lui non esistono più lui fai video non si sa rimanda a quei cia con le spiglie telefonino fai video registrati e le manda a quelle venti trenta persone i tifosi dell'inter per gli auguri di natale non esistono più ma a parte quello le faccio a meno dei suoi auguri io non mi sento rappresentato da uno e sfido chiunque a dire il contrario che dopo la finale di champions league dice ripartiremo dai giocatori più forti se a qualcuno che ti fa inter gli sta bene essere preso per il culo da questo spaventa passeri detto in toscano faccia pure a me non piace essere preso per il culo guardate anche scrivere scrivere cosa ha detto ha detto che mi hanno comunicato che dovevo andare via e quindi con il mio procuratore mi sono adoperato per cercarmi una squadra è uscito un articolo qualche giorno qua non non fatemi fare nomi il presidente dell'inter dove cazzo è visto che siamo sotto attacco siamo sotto fuoco nemico dov'è il presidente dell'inter è normale che ti attaccano dove cazzo è questo qui dove è finito la presentazione di uno sponsor come catar airways lui non c'è non 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 c'è nemmeno a stringere le mani perché catar airways sarà main sponsor è pronto a buttare tanti soldi però quello vi posso dire ragazzi per tranquillizzarvi e che nessuno sponsor si avvicinerebbe mai ad una società in stato fallimentare questo è fuori discussione cioè qui qui non ci piove cioè i brand importanti non affiancano il loro marchio a soggetti a rischio fallimento quindi questo ti deve far capire tante cose mi fermo qui catar airways non mette a rischio il suo brand con una società che non sa nemmeno se ripaga il prestito a quattro mesi della scadenza oppure no c'è un motivo se fanno lo sponsor dell'inter e io ti dirò di più secondo me il cinese per essere ricordato come il presidente della seconda stella sarà qui il più possibile poi arriveremo al ridosso del prestito che lui non ha potuto ripagare e si toglierà dai coglioni ti dico quello succederà secondo me poi magari va via stanotte e io incomincio a stappare una bottiglia dietro a un'altra perché ti fai rappresentare te da uno e fa tutte queste cose da uno che ti prende per il culo ti fai rappresentare te da uno a cui vogliono pignorare lo stipendio non io ti fai rappresentare te da questo qui non io c'è anche da dire un'altra cosa per tranquillizzare i tifosi nell'inter io lo dico nel mio piccolo per lo share che ho cinque milioni e mezzo di visual in venti mesi non mi sembra uno share da buttare via che dici questo dovrebbe essere un canale da quarantamila perché prendi canali da cinque mila fanno visual con mille 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 visual mille cinque questo fa questo fa visual mastodonti e rispetto a questi canali qua non parliamo di quello scemo che compra gli iscritti poi che ha novemila iscritti e fa visual con cento per cento visual a duecento visual infatti di chi si servono i difensori di zanghi di quello scemo ti fa capire di come sono messi la situazione perché ora si è ricominciato lo stanno inseguendo dove avete scritto delle cose ho cancellato lo hanno arrestato gli hanno ritirato il passaporto non lo so dov'è i cinesi io non lo so dov'è i cinesi ma non scherzo io me lo immagino quello ti posso dire sai cos'è che io so chissà dove i cinesi io so chissà dov'è i cinesi ma non te lo dicono dove i cinesi la situazione dell'inter è del tutto sotto controllo da parte degli organi amministrativi dei sindaci revisori e delle società ovviamente di revisione i quali col cazzo chiedo scusa alle signore per la parolaccia ma oggi sono arrabbiato col cazzo avrebbero posto firme sui bilanci per salvare i cinesi se è tutto così vuol dire che l'inter è in sicurezza quindi questa è una certezza il fatto che l'inter non rischi nulla e che sia in sicurezza perché ho sentito dire le banche che lo inseguono vogliono eh voglia andare sul litro all'inter gli fanno una bella seppia non gli fanno nulla all'inter l'inter è in sicurezza ora stamattina uscito fuori che tiago giallo giocatore a me piace tantissimo un difensore secondo me diventerà tre più forti in europa se ben gestito sembra che lo vogliano vendere subito ma seguono cinque milioni noi non li abbiamo cinque milioni anche perché i ricavi della champions riprendo un tweet del duca non lo faccio vedere perché dovevo chiedergli l'autorizzazione che saluto noi ad oggi dalla champions bonus partecipazione 15 milioni ranking storico 20 milioni market pool 3 milioni e mezzo più altri due facciamo 6 milioni di market pool bonus risultati 12 milioni bonus ottavi altri 10 milioni parliamo di circa 65 milioni ad oggi abbiamo guadagnato e l'input è che a gennaio faremo un mercato a zero mi dici di cosa stiamo ragionandovi ma su cosa è stata fondata l'inter da che gente è stata fondata l'inter ma io posso continuare a vedere questi qui che vanno a rovistare nella spazzatura della juve che ti portano quadrato ragazzi ma ma di cosa stiamo ragionandovi ma chi di voi avrebbe mai immaginato di vedere i tuffatori della juve all'inter ma stiamo scherzando io non mi sento rappresentato è inutile mi rompete gli odioni non la cambio idea io tifo l'inter non tifo i cinesi e i cinesi se avesse voluto bene all'inter sarebbe andato via due anni fa perché questo te lo dico io questo cercherà di stare qui fino all'ultimo giorno possibile fino a che non gli diranno esci per essere riconosciuto come il presidente della seconda stella anche se ormai lui non decide più nulla perché noi siamo in mano al governo cinese ma io pago le tasse in italia io smezzo lo stipendio con con questo paese dove vivo perché mi devo fare comandare dai cinesi fammi aprire non voglio entrare in nessun ambito politico perché devo sottostare a quello che fa la cina o la mia squadra del cuore spiegamelo te perché perché chi sono questi qui cosa vogliono dall'inter questi qui la stanno indebitando fino agli occhi non mettono una lira che cazzo vogliono vestivata all'inter mi sono non ho spiegato oppure no ciao vite